Vendere i pezzi pregiati e fare cassa prima di ripartire? Una possibilità. Cedere parte o tutta la società? Possibile, ma per nulla scontato. Continuare così, disegnando linee strategiche nuove? Quasi escluso. Un'altra settimana in casa Teramo, ma non è affatto vero che non sia accaduto nulla nel frattempo. Perché la cordata romana, che ha in mano i conti del diavolo, qualche passo in avanti pare averlo fatto. Iachini ha proposto quelli che potrebbero essere alcuni dei presupposti per passare la mano. Dall'altra parte, come nel gioco di domande e offerta, c'è stata una sostanziale attenzione alle richieste e valutazione delle eventuali controproposte. Al di là delle smentite della società, la trattativa entra in una fase complessa, la più complessa. Quella che separa la manifestazione di interesse concreta, con il fatto di sedersi attorno a un tavolo, anche se solo virtuale e a distanza, e buttare su carta numeri e considerazioni. Perché questo è quanto. Il contatto c'è stato anche nei giorni scorsi, ma non è dato sapere in quale modalità. Il nodo sta proprio qui. Quando si entra un po' più nel dettaglio, non è detto che le cose collimino perfettamente con le intenzioni di partenza. Comunque il nodo societario è precondizione utile affinché i discorsi tecnici abbiano un seguito. Visto che manca ancora il sostituto di Massimo Paci, che approderà al Pordenone, e visto che la poltrona di direttore sportivo di Sandro Federico deve essere confermata perché è in scadenza il 30 giugno. In scadenza il 28 invece ci sono le pratiche per l'iscrizione al campionato di Lega Pro. Girone B o C poco importa, quello che conta è che il Teramo ha la prossima settimana e poi qualche altro giorno per chiudere il cerchio in un senso o in un altro. Trascinare troppo per le lunghe la vicenda creerebbe soltanto problemi nel momento in cui poi si vanno a ridisegnare i paletti del progetto sportivo. Il diavolo conta che il Sassuolo eserciti il diritto di recompra di Pietro Cianci di 500 mila euro. Altrimenti, se non dovesse essere esercitato, il giocatore tornerebbe al Bonolis, ma con la certezza quasi matematica che andrà alla ricerca di altra sistemazione. E sarebbe un bel problema. Per questo si sta lavorando con i Neroverdi, per capire se hanno intenzione di tornare ad avere il controllo del ragazzo. Poi ci sono le questioni Santoro e Diachite. Il prezzo che ha in mente il diavolo per entrambi è chiaro? Quello che è poco chiaro è se queste operazioni, ammesso che si riesca a cedere uno a entrambi, vadano fatte prima dell'eventuale concretizzazione di qualsivoglia trattativa societaria. Oppure se deve essere argomento che sarà trattato in seconda sede. Insomma, i punti critici della vicenda ci sono. Il Teramo spera di monetizzare velocemente, ma altrettanto velocemente vorrebbe capire se la presidenza Diachini continuerà oppure ce ne sarà una diversa. Lavoro enorme in pochissimo tempo, perché la prossima stagione è già dietro l'angolo. Lavoro enorme in pochissimo tempo, perché la prossima stagione è già dietro l'angolo.